Musica Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolise. Per l'automobilismo grande successo per il rally del Molise. Tanto pubblico e ottimi piloti hanno caratterizzato questa ventiduesima edizione. Ha vinto il molisano Giuseppe Testa a bordo di una Ford Fiesta insieme a Massimo Bizzecchi. È tornato il rally del Molise ed è stato subito successo. Un weekend intenso per l'Automobil Club Molise che ha organizzato la ventiduesima edizione della gara automobilistica che mancava da nove anni. Nove prove speciali in 16 equipaggi hanno chiuso la prova. Al molisano figlio d'arte Giuseppe Testa a bordo della sua Ford Fiesta con Massimiliano Bizzecchi alle note il successo in questa edizione. Una prova quasi perfetta. Dopo il successo nella gara spettacolo di sabato sera, la zona dell'area del Vecchio Romagnolo in centro città ha richiamato tantissima gente. Il driver molisano, campione italiano junior e under, si è imposto sia nelle prove di busso che in quelle di Casal Ciprano, quarto posto invece nelle curve del Bosco di Sessano. Il pilota di Cerce Maggiore ha vinto anche nel gruppo R classe R5. Il tempo complessivo dei vincitori è stato di 57 minuti, 42 secondi e 6 centesimi. A completare il podio con un'ora 3 minuti e 37 l'equipaggio per Paolo Siano e Ilenia Piccinino su Peugeot 208. Terza piazza sul Renault Clio per Pasqualino Norelli e Fiorentino Lucio Iscaro che hanno coperto le nove prove in un'ora 4 minuti, 18 secondi e 6 centesimi. Per la classifica Scuderia la gara è stata vinta dalla Campobasso Corse. È stata una manifestazione impegnativa che ha contato 35 iscritti, solo in 16 hanno concluso la due giorni molisana. Grande soddisfazione per la Cimolise che ha fortemente voluto il ripristino del rally del Molise. A fronte della risposta dei piloti e del tanto pubblico al corso nonostante il freddo, può affermare di aver fatto la scelta giusta. Il Molise delle quattro ruote ha fame di gare di spessore. Lo slalom, città di Campobasso, Memorial Gianluca Battistini ed il rally del Molise rappresentano un orgoglio per il Molise sportivo. Calcio di Serie D si è giocata alla sesta d'andata. Fabriano Cerreto, L'Aquila 1-2, Francavilla Castelfidardo 0-1, Iesina Pineto 1-1, Monticelli San Marino 0-0, Nero Stellati Recanatese 0-0, Olimpianionese Campobasso 0-1, San Nicolò Teramo Vastese 1-2, San Giustese Avezzano 1-2, Vispesa Romatelica 1-1. Per una classifica che viene in testa il Campobasso a quota 16, Seguona 13 invece, Vispesa Romatelica e Castelfidardo 12-1, L'Aquila San Giustese 10 insieme alla Vastese, Iesina 9-8, San Marino Pineto 7-6 punti per Francavilla, Avazzano, Fabriano Cerreto, San Nicolò Teramo e Recanatese. 4-Olimpia Agnonese, 3 punti per il Monticelli, ultimo a quota 2, Nero Stellati. Al Campobasso il derby del Civitelle contro una buona Olimpia Agnonese. Il Campobasso espugna il Civitelle di Agnone grazie ad una punizione di D'Agostino ad inizio secondo tempo. È la quinta vittoria consecutiva al cospetto di un Olimpia che dà tutto in campo e avrebbe meritato qualcosa in più. Foglia Manzillo la definisce una vittoria sporca. Ci mettono lo Zampino, il solito D'Agostino e il portiere Landi, miracoloso in tre circostanze. Splendida cornice di pubblico al Civitelle. Si gioca di fronte a circa 1100 spettatori, Agnone invasa dai tifosi del Campobasso. I supporters Granata esibiscono una splendida coreografia ad inizio gara. Alla terzo, incursione di Santoro, schierato dal primo minuto da Bucci. Questi dal fondo mette in mezzo dove Landi protegge a dovere il primo palo. Al settimo, break rosso-blu con D'Agostino che crossa bene per Gurma, il quale in area calcia di poco alto sopra la traversa con tanto di recriminazione del pubblico ospite. Partita equilibrata, ma Capozzi del Campobasso è distratto al ventiduesimo quando si fa sottrarre palla da Santoro, il quale inaugura un contropiede. Palla per Di Lollo che trova uno straordinario Landi. L'azione prosegue e l'Olimpia agnonese conquista una punizione molto interessante. Lo show del portiere rosso-blu non finisce qui. La punizione di Margherita viene schiaffeggiata sulla traversa. Palla al centro dell'area, girata dell'ex Frabotta. Ancora un miracolo di Landi, è una fase che sorride all'Agnone che meriterebbe di passare al ventisettesimo destro di Margherita. La palla sorvola, di poco la traversa. Il Campobasso vive una fase di sofferenza anche grazie al pressing asfissiante portato dai giocatori Granata. Al quarantaduesimo il pubblico rosso-blu si scalda per la punizione di D'Agostino che tuttavia passa non troppo lontana dal montante. Si va al riposo senza minuti di recupero. Bucci e Foglia Manzillo scelgono gli stessi undici per l'inizio della ripresa che coincide con il vantaggio campobassano. Al settimo punizione per il Campobasso è la zolla di D'Agostino che da quella posizione è un cecchino infallibile. Lo dimostra anche al Civitelle per la gioia dei 500 campobassani al seguito. Dopo il gol dei rosso-blu la partita non riprende subito. L'arbitro infatti è intento a verificare la tenuta di una transenna letteralmente schiacciata dal peso dei tifosi dopo il gol del Campobasso. Reazione locale con un grandestro di Di Lollo che Landi provvede a deviare in angolo. Al sedicesimo sinistro da rivedere di Salim Ribeiro abbondantemente fuori. Locali vicini al gol al ventunesimo sul tiro di Niang. La gira di poco a lato Ferraro. Il cuore granata contro la solidità del Campobasso che adesso può amministrare il vantaggio. Foglia Manzillo rinuncia a Vecchione per inserire Sorrentino. Dall'altra parte Bucci fa fuori un centrocampista di Lollo per l'attaccante Barbosa. Di fatto l'Olimpia chiude la gara con quattro punte. Foglia Manzillo estromette anche Gurma per preferirgli Ingretolli. La partita non è soggetta a grosse variazioni e accusa anche un calo di intensità rispetto a quanto visto nel primo tempo. Assegnati cinque minuti di recupero. Al quarantaseiesimo sinistro scaraventato fuori da Ingretolli. Al novantaquattresimo scalda il piede margarita da punizione ma il risultato è una parata comoda di Landi. Il secondo tempo fila via senza emozioni per l'Agnone. Buono lo spirito e l'abnegazione dimostrata ma è la terza sconfitta consecutiva. Ai Rossoblu basta D'Agostino per vincere la quinta di fila e consolidare il primato. Campobasso non vuole smettere di vincere. Basket si è giocata la seconda giornata in A2 femminile, B maschile e Cisilver. Serie A2 femminile, girone del sud, seconda giornata. Orvieto-Civitanova 66-58, Savona-Forlì 53-62, Spezzina-Bologna 57-66, Palermo-Faenza 75-59, Alghero-Reatel-Galli-Basket 46-93, San Raffaele-Roma-Umbertide 73-66 e Cagliari-Magnolia-Basket-Campobasso 36-77. Per una classifica che vede a quota 4 Retail-Galli-Basket, Palermo-Bologna e Orvieto. A quota 2 invece la Magnolia-Basket-Campobasso-Umbertide-Faenza, Civitanova-Forlì e Roma, le altre ancora ferme a zero. Campionato maschile di Serie B, girone D, seconda giornata. Basket-Barcellona-Valmontoni 84-65, Venafro-Sant'Angelo 76-81, Palestrina-Globo-Isernia 95-73, Cagliari-Luis-Roma 66-70, Battipagliese-Scauri 61-75, Capodorlando-Roma 76-62, Sport e Cultura-Patti-Stella-Zorra-Roma 61-83, Cassino-Catanzaro 76-61. Quattro punti per Stella-Zorra-Roma, Barcellona-Scauri-Sant'Angelo e Luis-Roma. Per quanto riguarda le due Molesane, il Globo-Isernia e la Dynamic-Venafro, sono fermi ancora a quota zero. Seconda giornata nel girone A della C-Silver, Chieti-Silvi 83-63, Campli-Torre dei Passeri 51-64, Aquilano-Terramo 91-64, Limpia-Mosciano-Novo-Pinetto 59-66, Pescara-Erino-Basket-Termoli 58-71, Basto-Terramo-Aspicchi 71-49. Per una classifica che vede a quota 4 Chieti-Pinetto e Torre dei Passeri, due punti per Aquilano-Basto-Silvi-Erino-Basket-Termoli-Basket-Terramo-E-Terramo-Aspicchi. Le altre a quota zero. Il professor Marco Rossi, istruttore mini-basket tecnico del CONI, è entrato a far parte del CUS Molise. Rossi si occuperà del corso di attività motoria di base per bambini dai 3 a 5 anni, un'iniziativa voluta dal Centro Universitario Sportivo per permettere una crescita migliore ai più piccoli. Il corso si svolgerà nei giorni di mercoledì e venerdì dalle 18.15 alle 19.15 presso la palestra d'Ateneo. Le prime due lezioni saranno gratuite. Campionato d'eccellenza, quinta d'andata. Campo di Pietra-Vasto-Girardi 1-2, Frentania-Sesto-Campano 1-0, Treppini-Mattese-Boiano 1-1, Venafro-Ezarne a 0-1, Gambatesa-Termoli 1-0, Guionese-Campo-Vasso-1919-5-1, Spinete-Riccia 2-1, Vulcani-Alife 3-2. Per una classifica che vede in testa ancora le Zernia, solitaria a quota 15, segue a 13, il vasto Girardi, Termoli 10-9, c'è Venafro-Guglionesi e Gambatesa, 8 per il Treppini-Mattese, Campo di Pietra 7 con lo Spinete, Olimpia-Riccia-Alife e Vulcani a 6 punti, Boiano 5-3 per la Frentania, 2-6-Campano, ultimo a quota 0, il Campo Basso-1919. E' tornato a giocare tra le muramiche lo Spinete, che ha ospitato e battuto il Riccia. Seconda vittoria consecutiva per lo Spinete, che sul proprio campo, fresco di gradinate riservate al pubblico, supera l'Olimpia-Riccia, arbitra il signor Vitale della sezione di Isernia, affiancato nella direzione dalla coppia di assistenti, composta dai signori Izzo e Farina. Sono gli ospiti i primi a costruire qualcosa di concreto, con Pellegrino che da fuori consegna la sfera tra le braccia di Vitone. Ci prova anche Morsillo, il cui calcio piazzato non volge però ad un epilogo positivo. Nitida chance per il Riccia, ancora Pellegrino respinge a mano aperta Vitone, Morsillo a colpo sicuro, timbra incredibilmente il palo. Intorno al ventesimo risponde lo Spinete, Rossetti stacca di testa nel cuore dell'area di rigore, con il pallone che sorvola la traversa. Al trentadresimo si sblocca il risultato, Morsillo dalla sinistra entra in area, dribbling secco su Calabrese, assist per Del Zingaro che porta in vantaggio il Riccia. Prima dell'intervallo lo Spinete riesce a mettere a posto le cose, il minuto è il 43, Dragone dal fondo offre all'indietro per Rossetti, il cui traversone viene raccolto da Toto che sigla il gol del pareggio. La regia di Danilo Scarinci ci permette di passare nella ripresa, Morsillo va in percussione, fa tutto bene da solo ma conclude alle spalle di Vitone. Dalla parte opposta a contatto tra Santoro e Buonanno in area, con quest'ultimo che chiama il calcio di rigore, tutto regolare però secondo il signor Vitale. Di lì a poco si prende la scena Toto che ruba il pallone Ruggero, calcio col mancino trovando l'esterno della rete. Ci prova anche Tedeschi, favorito da un rimpallo, calcio sul primo palo, risposta con i piedi da parte di Tronca. Sa del rocambolesco, ciò che accade al ventunesimo dalla destra, punizione in favore dello Spinete, batte Tedeschi, esce con i pugni Tronca, il pallone che a causa del vento assume una strana traiettoria, cadendo in prossimità della linea di porta, per poi terminare in rete per il 2-1 giallo-verde. Vicina al Tris, la squadra di Torraco, destro dalla distanza proibitiva del classe 2000 Abauto, pallone che impatta sulla schiena di Tronca dopo aver centrato in pieno la traversa e per fortuna Derriccia. Per lo Spinete c'è soltanto corner. Al quarantesimo rosso diretto per il capitano bianco-rosso Morrone che protesta per un fallo non ravvistato, stessa sorte per lo stesso motivo. Al quarantesimo rosso diretto per il capitano bianco-rosso Morrone che protesta per un fallo non ravvistato, per lo stesso motivo, stessa sorte anche per il numero 17, Cicotelli, dalla panchina. Il Riccia, nonostante l'inferiorità numerica, nel recupero alla chance del pari, Davide Ruggero addomestica un ottimo pallone in area di rigore, miracoloso Vitone, la cui parata vale quasi un gol, finisce 2-1 per lo Spinete che sale a quota 7 punti in graduatoria e scavalca proprio il Riccia, staccandolo di una lunghezza. Adesso i risultati del campionato di promozione. Cliternina, Baranello 0-1, Molise, Ferrazzano 2-1, Casalò, Monte Rotaro, Comprensero, Verano 0-2, Castelmauro, Carovilli 3-0, Rocca Sicura, Matese 0-1, Roseto, Chieuti 4-0, Santeliana, Ururi 0-2, Termoli, Pietra, Montecorvino 1-1. La classifica vede al comando a quota a 15 il Matese, segue a 12 il Roseto, 11 Castelmauro, 9 Molise insieme al Termoli 2016, Cliternina 8, Rocca Sicura, Santeliana 7 punti, Comprensero, Verano ed Ururi a quota 6, Baranello 5, Pietra Montecorvino 4, Ferrazzano 3 con il Chieuti, Ucchiultime a quota 1, Casalò, Monte Rotaro e Carovilli. Successo del Castelmauro contro il Carovilli, a fine gara, mister Lallo Pizzi, nonostante la vittoria, ha rassegnato le dimissioni, si attendono notizie in settimana. Vittoria del Castelmauro, che liquida l'ultima della classe, il Carovilli, e sale addirittura al terzo posto in gradatore, in una giornata soleggiata, praticamente estiva al San Lorenzo, dopo la squadra di casa, fa su all'intera posta in palio, contro la temuta Carovilli, subito sbloccato il confronto, solo 4 giri di lancetti, quando Paolucci va a disegnare il cross perfetto, per Caputo, che riesce subito a trovare il vantaggio, la conclusione di destra, nulla da fare per il portiere Massimiliano di Falco, il gran gol di Caputo, che dai là, praticamente alla vittoria del Castelmauro, la gara si gioca prevalentemente a centrocampo, qui una conclusione di Nuosci, su punizione prima di uscire, con la sfera che termina di poco sul fondo, la risposta del Castelmauro, in questa conclusione di Bracone, al venticinquesimo, offre poco il primo tempo, offre questa bella conclusione da parte di Paolucci, che vede lontano dai pali di Falco, la conclusione con la sfera che si stampa sul palo, e termina incredibilmente sul fondo, nel primo tempo le emozioni si contano al lumicino, nel finale al trentasesimo, c'è uno spazio buono per l'inserimento sulla sinistra di Berardi, che rientra, converge, fa la conclusione, ma la sfera è abbondantemente alta sulla traversa, con le immagini montate da Alessandro Nardella, siamo nella ripresa, non cambia molto il motivo principale del secondo tempo, gioco che ristagna prevalentemente a centrocampo, per la prima conclusione, bisogna aspettare il diciassettesimo, quando Scanzano ruba palle, sull'uscita di Di Falco, conclude incredibilmente sul fondo, sciupa troppo, quello che crea il Castelmauro, qui una conclusione di Palazzo, dalla media distanza, con il sinistro, con la sfera abbondantemente sul fondo, ventisettesimo si sveglia, il Carovilli, che prova a farsi vedere negli ultimi sedici metri, qui la conclusione, in corsa da parte di Lombardi, sedile alla grande, con una parata distinto, riesce a neutralizzare, ci prova su punizione, a giro poi, il centrocampista Tomassini, con la sfera di un niente sul fondo, il contropiede, da parte del Castelmauro, con Scanzano, che arriva ancora tu per tu, con il portiere, il suo diagonale, con la sfera che si spegne sul fondo, al 35esimo il gol, però arriva sugli sminuppi di un calcio d'angolo, il pallone arriva a Dattoli, che con l'esterno del piede destro, trova la girata vincente, nulla da fare per Di Falco, è partita che va in naftalina, per il 2 a 0, ancora sulle ali dell'entusiasmo, il Castelmauro, in contropiede, cerca la via del gol, per rafforzare soprattutto, il vantaggio, qui il contropiede di Callura, che va alla conclusione, con la mano va a deviare di Falco, il pallone in calcio d'angolo, il gol però è nell'aria, ma arriva al minuto numero 45, il lancio lungo in profondità per Paolucci, che guadagna il fondo, mette in mezzo per Mancini, controllo e palla in fondo al sacco, per il definitivo 3 a 0, vince il Castelmauro, che però perde nel finale di gara, per divisione il proprio tecnico, Lallopizzi, che rinuncia a proseguire la stagione, con la terza in classifica. Coppa Italia regionale, in programma il turno infrasettimanale, per l'andata degli ottavi, della competizione tricolore, anticipata domani, la partita tra Campobasso 19, e Vasto Girardi, fischio d'inizio all'antistadio Selvapiana, alle 16.30, tutte le altre gare, si giocheranno mercoledì, palla a volo maschile, questo fine settimana, al Via, il torneo DC Abruzzese-Molisano, debutto casalingo, per la Laborvetro Volley Campobasso, sabato, al Pala Ferentinum di Ferrazzano, ospiterà il Teate Chieti. Nico Cassella, opposto della Laborvetro Volley Campobasso, anche tu pronto per questa nuova avventura, per te, diciamo una fusione tra studio e sport, perché sei di Benevento, e studi a Campobasso. Sì, per me è comunque un'avventura, diciamo molto stimolante, perché sì, lo studio che metteremo comunque sempre in primis, come giusto che sia, comunque è bello far parte di questo gruppo, che pur facendo parte da poco tempo, ormai ho capito essere un gruppo molto molto compatto, comunque molto, è un gruppo molto molto unito, insomma, e diciamo che sono riuscito a inserirmi subito, relativamente, e spero soltanto che la cosa possa andare bene, sia dal lato universitario, diciamo, ma anche dal lato del campionato pallavolistico, insomma. Te lo auguriamo innanzitutto per il lato universitario, qual è stato il primo impatto con il gruppo, perché la preparazione è scattata già da un po'. Sì, la preparazione è scattata già da un po'. Noi, io insieme all'altro ragazzo di Benevento, che siamo venuti qui per studiare, abbiamo raggiunto il gruppo un po' dopo, però comunque abbiamo, siamo riusciti a mantenere, diciamo, un buon impatto sulla preparazione, su quella che è la preparazione, e appunto, come ho già detto, il gruppo è ben unito, è stato molto molto facile inserirci, sia nel gruppo, proprio per il livello anche di pallavolo, perché è davvero un bel gruppo, insomma. Sei del 98, quindi giovanissimo, da quanto tempo pratichi la pallavolo? La pallavolo è iniziata circa nove anni fa, quando facevo la prima media, insomma, con una piccola squadra del mio paese, tra le esperienze ho ritrovato, diciamo, un mio compagno, che è Giuseppe Pesano, che avevo dieci anni fa, le finali nazionali, under 14, dopo dieci anni, è stato un piacere di trovarlo, qua a Campobasso, insomma. La Borvetro Volley, qual è l'obiettivo per questa Serie C, perché siete una new entry, ripescati in estate, e quindi, presumibilmente, l'obiettivo è quello di mantenere la categoria, ma forse qualcosa di più? Beh, innanzitutto noi partiamo con l'obiettivo di salvarci, come giusto che sia, affrontiamo una categoria nuova, che comunque ancora non conosciamo, quindi per ora, l'importante è salvarsi, poi se riusciamo a salvarci subito, quello che viene ci prendiamo, insomma. Molte volte si dice, il gruppo è l'arma vincente, questo può essere veramente l'arma in più, vostra, perché ci hai detto più volte, siamo uniti, siamo coesi. Assolutamente sì, questo forse, noi possiamo vantare qualcosa, che forse non tutte le squadre hanno, che appunto è un gruppo unito, qua a differenza di tutte le altre, di molte altre società, non ci sono, diciamo, sottogruppi, qui il gruppo è tutt'uno, insomma, questa è una cosa che all'interno di una squadra, comunque non è una cosa piccola, insomma. Volley sport spesso minore, nel senso, rispetto, ecco, meno popolare, diciamo, rispetto al calcio, invece a Benevento, tu che sei di Benevento, come è l'andazzo proprio del volley? Allora, il volley, Benevento, soprattutto in quest'anno, con tutte le vicende calcistiche, insomma, il calcio è sempre in primo piano, per quanto riguarda la palla a volo, comunque, ha molta importanza sul lato femminile, perché ha una serie B con l'Accademia, quindi comunque in città della palla a volo si parla molto, non quanto il calcio, ma comunque si parla molto anche della palla a volo. L'obiettivo a Campobasso, lo avete detto fra di voi, è far parlare anche di voi? Assolutamente sì, assolutamente sì, speriamo che possiamo farlo il prima possibile, magari, sorprendendo tutti e facendo un campionato che, magari, alcuni non si aspettano, insomma, speriamo di superare le aspettative, diciamo. Calcio a 5 di serie B, la grafica dei risultati. Debutto amaro per la Chaminade, contro il Manfredonia. Debutto con sconfitta per la Chaminade, che non è riuscita a abissare il successo di Coppa Italia, contro il Manfredonia. Buona la cornice di pubblico al palafiera della Cittadella dell'Economia, che ospiterà per ora le gare interne della squadra del capoluogo, fino a quando la palestra a Sturzo non sarà ristrutturata. Veniamo al match, ospiti subito pericolosi al terzo, con questa conclusione di Perez, Massari alla Suad, si fa trovare pronto. Ancora Manfredoni in attacco. All'ottavo, uscita sfortunata del portiere Rosso-Blu, la palla carambola sui piedi di Bellacfin, la sua conclusione trova la deviazione di Cavaliere, che salva i suoi. Sull'angolo seguente, traversa di Abram. Un minuto più tardi, arriva il vantaggio locale, con questo tiro rasoterra di Cavaliere, 1-0 Chaminade. Il vantaggio non viene amministrato bene dai ragazzi di Paolo Pizzuto, che in un minuto si fanno prima recuperare e poi superare. Trenta secondi più tardi, disimpegno sbagliato del quintetto molisano, ne approfitta il Manfredonia, che pareggia con Laccetti. Nove minuti e cinquanta secondi sul tabellone, ancora palla persa della Schami. Cinico il Manfredonia, con Bella Fokin, che realizza il 2-1 ospite. Sarri alla SWAT evita il tris su questa conclusione di Dos Santos, quando siamo all'undicesimo. La reazione dei locali è in queste due azioni. Al quarto d'ora, il tiro del giovane Petrella viene respinto. Diciannovesimo termina a lato, la conclusione di La Bella. Sul 2-1 per il Manfredonia, le squadre vanno a riposo, gara ancora aperta. Ripresa sotto tono, protagonisti per entrambe le squadre, i loro portieri. La prima azione la registriamo all'ottavo, Angiulli respinge il tiro di Petrella. Sarri alla SWAT nega ancora il gol a Dos Santos, grande intervento del numero 12 della Schami. Bella Fkin vince una serie di rimpalli, si invola verso la porta e il capitano del rosso-blu lo atterra. Secondo giallo per lui, Chaminade, con un uomo in meno. A pochi secondi dal termine dell'inferiorità numerica, il Manfredonia allunga. Questa volta Dos Santos riesce a firmare il cartellino 3-1 per gli ospiti. La doppietta per il numero 5 del Manfredonia arriva due minuti più tardi. Lasciato libero di tirare, è 4-1. A 10 secondi dal triplice fischio, ancora Bella Kfin realizza una doppietta. Termina 5-1 per il Manfredonia, la prima di campionato. Si apre una settimana intensa per la Chaminade, chiamata a riscatto nella trasferta di Pratola. Anche la formazione abruzzese ha perso all'esordio. Campionato regionale di C1 Arcadia, Termoli, Fossaltese 2-2, Montenero, Real Cerce Maggiore 5-4, Roburagnone, Real Venafro 8-3, Saracena, Aesernia, Fuzz al 9-1, Castel Pagano, Mirabello Calcio 9-0, Virtus Estese, Kemarin 6-5. A quota 3, Castel Pagano, Saracena, Roburagnone, Sestese e Montenero a 1, Termoli e Fossaltese, le altre tutte a 0. Calcio si è giocata la seconda giornata in prima categoria. Prima categoria, giornone A, seconda giornata, Ala Fidelis, Pozzilli 3-2, Atletic, Mignano, Forum 0-0, Cabriattese, La Pietra 3-2, Boes Verano, Fornelli 2-0, Domenico Desisto, Roccaravindola 1-0, Macchia, Volturino 2-3, Masseriela, Corte, Real Prata 2-0, Rufri, Presenzano, Castel di Sangro 2-3. A quota 6 troviamo Castel di Sangro e Domenico Desisto, A-4, Pesso Verano, Mignano, Volturino, Forlum, di seguito tutte le altre. Girone B, seconda giornata, Campobasso Calcio, Trivento 0-3, Carpinone, Mirabello 0-0, Chiauci, Real, Gildone 2-1, Donchessagnone, Maronea 1-0, Pesche, Cerce Piccola 1-2, Ripalimosani, quartiere Campobasso Nord 2-1, Sant'Angelo, Limosano, Atletico San Pietro in Valle 2-1, Vinchiaturo, Mundimitar 3-1. A quota 6 troviamo Trivento e Sandangelo Limosano, A-4, Vinchiaturo e Chiauci di seguito tutte le altre. Chiudiamo con il girone C, Angioina Colletorto, Macchia al Fortore 3-2, Biccare, Fiamma, Larino 1-0, Campomarino, Guardia Alfiera 2-1, Casali, Dauni, Matrice 1-1, Gruppo GSM, Turris 1-1, Polisportiva, Fortore, Petacciato 5-1, Calena, Portocannone 2-3, Rotello, Altilia, Samnium 2-1. A quota 6 troviamo Polisportiva Fortore, Trecoli, Rotello, Biccare, A-3 invece, Altilia, Samnium, Calena, Portocannone, Angioina Colletorto, Petacciato, Campomarino di seguito le altre. Nel raggruppamento C, successo netto della Polisportiva Fortore contro il Petacciato. La Polisportiva Fortore si impone a valanga sulla Polispetacciato con un 5-1 che non ammette repliche. Dopo solo i tre minuti, azione personale di Cannizzo che rientra sul sinistro e saggia subito i riflessi di Raspa. Al quinto Ruggero si incune in area adriatica ma trova ancora Raspa pronto a chiudere lo specchio. All'undicesimo, Pablo Circelli svetta sul corner tagliato dalla sinistra ma Raspa blocca in due tempi. Al sedicesimo, l'unico lampo del Petacciato è condivito, lanciato a rete, che per poco non trova la porta. Al trentasesimo, ancora Ruggero a liberarsi al tiro dalla sinistra ma Raspa si conferma in giornata di grazia. Nelle riprese, il copione non cambia e al quarto, Paolo Circelli si ritrova solo davanti a Raspa che però è strepitoso nel chiudergli lo specchio della porta in uscita. Ma al dodicesimo, i padroni di casa passano. Punizione tagliata di Ruggero, stacca Telegramma che da pochi passi batte finalmente Raspa ed è l'1-0 giallo-nero. Il raddoppio arriva a stretto giro con Paolo Circelli che schiaccia il diagonale dalla sinistra ed insacca nell'angolo lontano. Al trentesimo, quasi a sorpresa, la gara si riapre. Punizione radente di Alessandro Massimi, Paolo Circelli svirgola nel tentativo di liberare e batte il proprio portiere per l'1-2. Al fortore però bastano tre minuti per scacciare la paura. Paolo Circelli ha il piole un pallone in area di rigore e lo telecomanda a mezza altezza nell'angolo lontano per il 3-1. Un minuto dopo, Paolo Circelli serve a ricciare di cioccolatino per il piatto destro che vale il 4-1. Al quarantaquattresimo ci pensa De Bellis a chiudere il conto con una zuccata su angolo di Zullo per il 5-1 finale. La polisportiva fortore sale quindi a quota 6 dopo due gare ed enda di diritto tra le pretendenti alla promozione mentre il petacciato resta a quota 3 ma con ampi margini di miglioramento grazie ad un vivaio più che promettente. Vi ricordo stasera l'appuntamento con Molise a calci insieme a Gianni Bruno Cecilia Di Lauro avremo ospiti, commenti e naturalmente la nostra Moviola. Molise a calci alle 21 sempre e solo su Tele Molise. E tutto buon pomeriggio. Grazie a tutti.